Imponente operazione della Polizia di Stato nelle province di Bari e Barletta Andrea Trani finalizzata a smantellare un'organizzazione criminale insistente nel territorio di Andrea che sarebbe responsabile dei numerosi assalti agli sportelli Bancomat consumatisi nella BAT oltre che nelle province di Bari e Matera, nonché di diversi furti consumati e tentati ai danni di stabilimenti industriali e commerciali dislocati in tutta la regione. Una vasta operazione eseguita dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza della cittadina federiciana congiuntamente al personale della squadra mobile di Bari, del reparto prevenzione crimini Puglia e del reparto volo di Bari e che ha permesso di assicurare alla giustizia numerosi esponenti della criminalità locale dell'Interland Murgiano. 13 le persone di fatti destinatarie della misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Trani su richiesta dalla locale Procura della Repubblica. Il tutto a seguito dell'imponente attività investigativa condotta dal Commissariato di Andria in raccordo operativo con gli uomini della squadra mobile della questora di Bari. Le indagini partite nell'estate del 2015 quando lo sportello banco matto di una filiale delle poste italiane di Andria fu preso d'assalto. In quell'occasione i malfattori utilizzando uno strumento esplosivo definito in gergo marmotta fecero saltare a pezzi il dispositivo ATM riuscendo a fuggire con i contanti trafugati. Un fenomeno questo replicatosi nel tempo con le medesime modalità tra Andria e le province di Bari e Matera. Da ciò una complessa attività investigativa messa in campo dagli agenti tra postamenti, pedinamenti e servizi notturni volti ad attenzionare le abitudini degli indagati. Un monitoraggio difficile, quello intrapreso per i luoghi impervi della Murgia e le improvvise partenze nel cuore della notte. Ciò nonostante gli investigatori sono riusciti ad individuare le cupe dei malviventi, sequestrati quasi 5 kg di esplosivi, fucili, jammer e le cosiddette marmotte. L'indagine inoltre ha permesso di rintracciare i collegamenti con un ulteriore gruppo criminale composto da pregiudicati andriesi e dedito ai reati e ai danni di depositi merci e stabilimenti industriali ubicati tra Calabria, Puglia e Campania. La scelta naturalmente ricadeva su quelli con ricchi bottini. L'attività investigativa ha fatto luce inoltre sui ricorrenti furti perpetrate ai danni di numerose aziende, tra cui quello consumatosi presso un farantoio oleario in cui fu depredata l'intera attrezzatura costituita da pesanti macchinari ancorati al suolo del valore di circa 170 mila euro, poi recuperata prontamente grazie all'intervento dei poliziotti.